Ciao, io sono Chiara, ho 27 anni e mi sono laureata in Ingegneria Spaziale e Astronautica all'Università di Roma Sapienza nel 2019. Subito dopo la laurea ho cominciato il mio percorso nel gruppo Leonardo. In particolare ho iniziato a lavorare qui in Telespazio, al Centro Spaziale del Fucino nel ramo Satellite System and Operations. In quanto ingegnere satellite mi occupo di preparare e di testare tutte quelle attività e quelle operazioni necessarie per controllare un satellite dalla separazione con il lanciatore fino all'immissione nell'orbita target dove inizierà la sua vita operativa. Ogni giorno nella sala qui alle mie spalle, la main control room della missione, insieme ai miei colleghi effettuiamo simulazioni per prepararci ad ogni possibile scenario operativo che ci può essere in una missione spaziale. Quello che mi entusiasma di più di un mio lavoro è poter lavorare in un grande progetto a livello europeo e interfacciarmi con enti internazionali quali l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, e pensare che il mio lavoro possa avere un riscontro nella quotidianità delle persone. Ciao, sono Gloria, ho 43 anni e sono un ingegnere meccanico. Sono in Telespazio da circa 14 anni. Attualmente sono un ingegnere di missione per Galileo, che è il sistema di navigazione satellitare europeo. Galileo attualmente è composto da una costellazione di 28 satelliti disposti su tre piani orbitali tra i 23 e i 24 mila chilometri di altezza. Mi occupo della gestione degli elementi che generano il messaggio di navigazione che viene mandato a bordo. Poi c'è tutta la parte di pianificazione di attività operative, sia a terra che a bordo. E infine la parte di analisi dei dati di missione e delle performance del sistema in generale. La parte che mi entusiasma di più del mio lavoro è che siamo stati i primi e tuttora gli unici in Europa ad occuparci del segmento mission di un sistema di navigazione satellitare. Il gruppo Leonardo è l'ambiente perfetto per chi ama mettersi in gioco e desidera lavorare in un contesto dinamico e stimolante. Per chi cerca un ambiente altamente specializzato e che permetta una crescita personale e professionale.